Musica Ok ragazzi, eravamo rimasti proprio in questo punto nello scorso episodio e quindi ora non ci resta che continuare Ok, ho visto già una finestra quindi devo andare lì per forza Quindi dai, Randan, sporgiti e fai un super salto Ok, uh c'è un cadavere Lo vedete? E' pieno di mosche Ma noi abbiamo l'accetta e siamo pronti a tutto, veramente Oh Scendi, scendi Un carillon, Shannon ne ha dato un uguale a Liglia per il suo compleanno Sono state qui? Devo trovarle a tutti i costi Ok, oh speriamo che quella tipa zombie, cioè quella tipa morta non si sveglia e mi ammazza Io già sono pronto con la mia accetta quindi stai attento Una famiglia massacrata e un altro graffiato a nome della nuova legge Ecco cosa succede a coloro che rubano la morte Eh Noi siamo i buoni, Randall, quindi Non rubiamo niente, dai, tranquillo Oh, salta Ok, ci sono parecchi zombie Attenzione, attenzione Qua mi sa che non posso fare un super salto Quindi devo scendere E poi rampicarmi su quelle travi Vai, vai, Randall No, devi scendere Vai così Grandissimo Che salto Ok, vediamo un po' qua Oh Oddio Qui è un problema Guardate Oddio La carica elettrica a terra Eh, lì se ci passiamo ovviamente moriamo Quindi dobbiamo trovare una strada alternativa Vediamo prima qui dentro che si dice Sembra non esserci niente Quindi saliamo Ah, ecco Mi devo appendere su quelle gru Sali, Randall Quindi facciamo una cosa Prendiamo una mega rincorsa E sbrigati a saltare là sopra Grandissimo Vai anche sull'altra Vai Per un soffio Ora dobbiamo appenderci sicuramente su quella corda Quindi dai Premio il tasto shift per la rincorsa E salto subito Bravo, bravo, bravo Ok, Randall Pronto a saltare? Bravo, bravo, bravo Ok, un medikit Un medikit Se ne trovano Ogni tanto Per fortuna non mi serve Perché sto bene Eh Speriamo sarà sempre così Uh, cos'è qui? Una revolver special Punto 38 E vai Era proprio quello che volevo Ragazzi Grande Qui partirà sicuramente un dialogo Dai Ve lo lascio vedere Non c'è Sì non ho avuto un problema con il excesso ho bisogno di sapere questo sicuramente potrei questo non è come la riflessione in montagna prima ti ho bisogno la chiesa di essere da quelli che ci sono da quelli che ci sono con le mani con le mani con le mani allora premi R per ricaricare ok e ora ah devo sparare con la lattina ok ah ecco eccolo vedete il mirino rosso quindi ah devo prenderla per forza ok ce l'ho fatto spara al corvo va bene ce l'ho fatto vediamo per bene eccolo eccolo puntino rosso bam oh devo ricaricare però aspettate dai alza sta mira landal e vai mandalo a casa io l'ho sparato ah ok poi c'è uno zombie fallo per questo poveraccio ok no problem va a sparare la testa ovviamente ok allora dritto la testa aspettiamo il punto giusto ecco l'ho ucciso ah cerca di mirare sempre alla testa Randy sempre alla testa non c'è problema ok abbiamo una pistola ragazzi ma per il momento preferisco non usarla perchè rischio solo di attirare tantissimi zombie oddio non fischiare landal comunque ce l'abbiamo ma per cambiarla cioè io non voglio la pistola voglio l'accetta ah ecco con il tasto sinistro del mouse uso l'accetta mentre con questa miro e sparo va bene oh cos'è qui ah beh immaginavo proiettili vediamo come faccio a salire spara il lucchetto per continuare ah ok ok lucchetto randal ok perfetto ah ok la scala per salire è ottimo però fa un casino esagerato questa pistola ok andiamo sul filo oh oddio ragazzi ci sono i militari eh però quelli cattivi mi sa e c'è anche uno zombie questo sicuramente si sveglia ah no no questo lo voglio prendere dalla testa però no che si fa però guardate quanti mi ho tirati ho trovato proiettili per la speciale ok ma io me ne scappo ragazzi non voglio stare qui scendi ok centro di Seattle 4 luglio 1986 ore 20 e 40 va bene siamo in una macelleria però con la carne è andata a male ormai un medic vabbè se ne trovano tanti la solita frase ok oddio piano dobbiamo no se ne sono accorti scappa scappa no ma che cacchio fai mannaccia a te Randall no 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 liberati liberati subito e scappiamo mi sa che devo prendere il rincorso ok ho capito ma che cacchio fate ma che cacchio fate no non posso morire e quasi è finita la resistenza io devo scappare però qui ok pistola ok cosa c'è qui ho usato un kit di pronto soccorso bene oddio ma come si fa ad andare avanti non mi faceva passare eh guardate mi dovevo accucciare qui c'è una scala quindi vabbè devo salire qui ok con l'incendio mi impedisce di proseguire la puzza è insopportabile se solo riuscisse a trovare un modo per estenderlo ok no problem Randall ci andiamo qua sopra vedi io non volevo usare la pistola e me la fanno usare per forza ok siamo in una stanza apri apri ok ok quindi ah ho capito tutto con la torre idrica mi sembra abbastanza instabile penso di poterla battere è certo spingi 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 nonostante i danni strutturali il serbatoio è ancora pieno d'acqua quindi forse devo spararlo no aspetta ah oh che spallata addio che spreco di preziosa acqua potabile ma devo trovare i miei amici la mia famiglia ora quel fuoco dovrebbe essere spento ok adesso possiamo scendere ma non da qua troppo alto ok un estintore cos'era? mi era perso qualcosa vedete? vabbè forse era per salire no piano piano devo far comparire quella con l'ingranaggio ecco ah dai la porta si chiude tutto sto casino per chiudersi la porta ok ora devo fare li devo attirare e scappare subito sopra quel palo vai vai randall vai randall oddio vai vattene 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 ok ok qua non c'è niente da prendere mi sta quasi per prendere pistola no devo caricare aspetta aspetta che poi ti sparo no 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 vattene via però questo lo voglio finire con l'accetta è ovvio dai alzati e combatti combatti dagli mega colpo bravissimo randall grande ammazzalo comunque ragazzi arrivo fino a in cima all'edificio e poi ci lasciamo e ci sentiamo al prossimo episodio va bene ragazzi guarda in corsa oddio qua non si può salire no è un po' troppo alto e no è troppo alto comunque ragazzi io finisco il video qui e ci sentiamo al prossimo episodio spero che questa serie vi stia piacendo perché è veramente bello questo gioco a me piace tantissimo comunque ci sentiamo al prossimo episodio ciao a tutti ragazzi ciao a tutti